Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max e parliamo delle Iene dove, sì, ci siamo tutti accorti dell'assenza di Belen, anche se è scattato il panico tra i fan, ma c'è un motivo. Innanzitutto è stata sostituita in extremis da Claudio Santamaria che è andata a prendere il posto suo per poter condurre il programma in onda su Italia 1. Soltanto qualche settimana fa il pubblico è super impazzito per alcune retroscena relativi all'abbandono di Teo Mamucari, quindi non è la prima volta che si va a parare sulle Iene. Ma si parlava di grandi litigate nel backstage, cioè nei corridoi dove nessuno vedeva ma forse qualcuno sapeva, e poi le cose invece si sono piano piano affievolite. Da quello che però ha raccontato lo stesso Santamaria, Belen non è che stia molto bene e quindi si è dovuta prendere qualche giorno e ha dovuto sostituirla per coprire il ruolo da conduttore almeno per una sera. non ci è dato sapere, speriamo solo non sia nulla di grave. Chiaramente in queste ore in tanti stanno scrivendo sui social dell'Argentina per sapere se sia tutto ok. Riguardo invece Mamucari, la questione nei giorni scorsi si è fatta molto più fitta. Fanpage ha svelato. Delle fonti attendibili ci hanno rivelato che tutto sarebbe partito da un filmato condiviso da Teo. Il video non è più visibile sul profilo di Mamucari e farebbe riferimento ad alcuni spezzoni di un servizio girato dal conduttore nei giorni antecedente alla registrazione. Parenti non avrebbe gradito la condivisione sui social di Mamucari, contestando la cosa e accendendo una discussione. Per questo Mamucari avrebbe lasciato lo studio a pochi minuti dall'inizio della diretta. Poco dopo però Mediaset ha fatto sapere. Dopo un anno con Belen Rodriguez alla conduzione delle Iene come già previsto e in accordo con l'azienda Teo Mamucari lascia il programma e si dedica ad altri progetti della rete. In cantiere infatti ci sono diverse novità. Con Belen nelle prossime puntate ci sarò Max Angioni, che passa da essere un ospite al ruolo di conduttore.